Ti vuoi amore? Io so che non si parla con la bocca piena, ma cosa devo fare? Mi parli e devo rispondere? Ti sto mangiando? Mamma che sustoso che sei amore! Amore vai un attimo in bagno perché siamo all'antico forno, al punto vendita di Brusegana, la base è completamente rinnovata. Beppe hai fatto un miracolo, è stupendo! Sì Stefania, in poche settimane e tre settimane circa abbiamo rinnovato completamente, abbiamo rivoluzionato l'antico forno, questa che era la base, diciamo, dove l'antico forno è nato e cominciato e poi si è sparso in tutta la città e abbiamo voluto ridare un look tutto nuovo. Ha cambiato totalmente aspetto ed è molto in linea con gli altri punti vendita perché ricordiamo che l'antico forno è anche in piazza Mazzini, è in Bialtinate, è in piazza Insurrezione ed è anche nel quartiere Santa Rita. E anche in piazza dei signori. E piazza dei signori, quindi diciamo che l'artigianalità di antico forno è veramente in tutta Padova, ma non solo Beppe perché io so che ultimamente stai seguendo un progetto molto bello e un orgoglio per la nostra città perché i tuoi prodotti artigianali stanno prendendo forma e andando anche fuori territorio. Sì, stanno andando in giro per il mondo e ci stiamo stiamo portando la città di Padova in giro per il mondo. Stiamo riproducendo la serigrafia di piazza dei signori su tutte le scatole intanto dei nostri panettoni. Poi sarà su tutti i dolci, è un percorso che stiamo facendo in collaborazione con il comune di Padova che ci ha dato l'autorizzazione per poter riprodurre la piazza sulle nostre scatole. Ed eccole qui queste meravigliose scatole, stupende veramente, con la nostra piazza dei signori. Quindi Padova ovunque. Bellezza e bontà devono viaggiare insieme. Assolutamente d'accordo. E infatti mi piace questa frase, portiamo nelle vostre case la passione e la genuinità della nostra tradizione, la tradizione di antico forno. forno. E noi con questo vogliamo fare gli auguri di buone feste a tutti, sia ai nostri padovani che a tutti i cittadini che assaggeranno i prodotti di antico forno nel mondo veramente almeno stavo al canale. Silent night, holy night, All is calm, all is bright Round yon virgin, mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace 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 Grazie a tutti.